Vo' alla che altro bimbi sa buco un buon tabata? Avete un'altra opportunità per visitare il nostro prossimo Blue Monday Special. Arriva già l'una, il 6 di settembre prossimo, per i cinque ore tari di connevare la notte nel nostro Lone Center di Roosevelt. Venite a applicare la buona hipoteca o la fianza personali e ricevete un interesse extra favorabile solamente a qui. Tambi lo ti imprimio cordo dentro di un tombola. Corda, già l'una, il 6 di settembre. Blue Monday Special, un concepto di... Pueblo Subbanco